Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente torna la serie A, torna la serie A e quindi tornano anche i video sui consigli per le schedine e più tardi poi quello sui consigli per il fantacalcio. Intanto partiamo appunto dalle schedine che l'altra volta ne avevo azzecate 9 su 10, quindi tanto così, tanto così veramente da riuscire a concludere una bella giornata anche dal punto di vista delle schedine e quindi ragazzi ci riproviamo, stavolta a zeccare 10 su 10 sarebbe anche meglio, sarei anche molto più contento, però chiaramente non è semplice no? Comunque ragazzi partiamo da Fiorentina contro Juventus per la quale vi consiglio l'over 2,5, secondo me entrambe le squadre riusciranno a segnare abbastanza comunque abbiamo visto che la Fiorentina qualche problemino ce l'ha, la Juventus qualche problemino ce l'ha e quindi secondo me potrebbe esserci parecchie gole in questa partita la quota è 1,70 quindi discreta, mettiamola così, potete secondo me azzardarla. Napoli contro Sampdoria vi consiglio l'1 più no goal diciamo che è abbastanza sorprendente, però la Sampdoria secondo me in questo momento non ne azzecca una e anche davanti c'è molta molta difficoltà, i nuovi entrati dovranno un attimino ambientarsi per cercare di capire bene gli schemi e i movimenti che vuole di Francesco quindi in fase offensiva secondo me non sarà niente di che, anche se Qualerella segna spesso comunque a Napoli credo che comunque il Napoli vincerà con appunto la Sampdoria che non riuscirà neanche a segnare è quotata 2,15 quindi interessante Inter contro Udinese, Inter contro Udinese vi consiglio l'1 più over 2,5 quotata 1,90 allora attenzione perché considerando che è 1 più over 2,5 quindi una combo addirittura non è altissima 1,90 cioè ci sta però non è neanche sopra i 2 quindi è un po' rischiosa per 1,90 però comunque ragazzi credo che comunque l'Inter vincerà abbastanza tranquillamente contro un Udinese che potrebbe comunque provare a insidiare la difesa dell'Inter ma che secondo me non ci riuscirà secondo me tre gol complessivamente ci saranno in questa partita e quindi ve lo vado appunto a consigliare Genoa-Atalanta vi consiglio il 2 secco perché era abbastanza già così 2,10 credo che comunque l'Atalanta vincerà nonostante ci sarà un po' di rotazione, un po' di turnover per quel che riguarda l'Atalanta appunto per la Champions League però credo onestamente che riusciranno a concludere poi a espugnare diciamo Marassi nei confronti del Genoa quindi assolutamente vi consiglio il 2 Brescia contro Bologna 1 più under 3,5 che è tantissimo che è quotata 3,90 cioè una follia probabilmente credo che il Brescia possa vincere con un rigorino, con un gol fortuito, con un gol su azione anche elaborata che ne so, però magari può vincere 1, 2-0, 2-1 e ci potrebbe tranquillamente stare quindi avremo anche azzeccato la quota 1 più under 3,5 secondo me non ci saranno tantissimi gol il Brescia riuscirà a vincere quindi potete azzardarla secondo me Parma contro Cagliari, per il Parma contro Cagliari vi consiglio il 2 secco ha una quota di 3,25 quindi nel senso non è che posso mettere altra roba va benissimo tra i 25 con il Cagliari che secondo me deve vincere nel senso che ha già perso le prime due giornate è comunque una squadra che se perde 3 parti di fila o anche concludo con un punto nelle prime 3 giornate secondo me va male 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 e il Cagliari non può permetterselo visto il mercato che ha fatto in più se fosse il Parma in trasferta vi avrei detto attenzione in questo modo qua secondo me col Parma in casa secondo me il Cagliari può farcela quindi vi consiglio un 2 che ha una quota molto molto alta e quindi da prendere assolutamente in considerazione Spal contro Lazio vi consiglio il gol, quotata 1,80 diciamo che la Lazio è una squadra che sta veramente molto bene a livello fisico la Spal però in casa secondo me non lascerà vita facile ai Bianco Celesti quindi assolutamente credo che un gol lo proverà a segnare e la Lazio in compenso siccome poi vincerà anche la partita quindi ci può anche stare insomma che entrambe le squadre segnino e io ve lo vado a consigliare passiamo a Roma contro Sassuolo, anche qua vi consiglio il gol perché secondo me entrambe le squadre segneranno negli ultimi sei incontri fra Roma e Sassuolo in questo ordine quindi con Roma in casa e Sassuolo fuori casa hanno sempre segnato entrambe le squadre quindi possiamo azzardarle, è quotata 1,50 non è altissima se non ve la sentite non rischiatela per 1,50 tanto il gatto vabbè fa quello che vuole comunque per 1,50 non rischiatevela se non ne siete certi anche voi però in generale secondo me ci può stare giusto per alzare un pochino Torino contro Milan, è quotata 1,67 allora vi consiglio il 2 secco dovrebbe essere una vittoria abbastanza semplice sulla carta per il Milan credo in realtà che un gol il Verona potrebbe anche farlo un'insidia per il Milan potrebbe esserlo però credo che il Milan poi vincerà vi consiglio quindi il 2 a 1,67 che per essere un Verona-Milan secondo me è molto buono terminiamo con Torino contro Lecce per la quale vi consiglio l'1 più gol quindi molto difficile infatti è quotata a 3,40 secondo me Lecce segnerà, consegnerà contro il Torino perché comunque il Torino ora ha un po' da registrare la difesa dopo la praticamente non presenza di Inculu nelle ultime settimane quindi qualche gol abbiamo visto che l'ha subito fino ad oggi contro il Sassuolo, contro l'Atalanta quindi credo che possa subire se non sbaglio il Sassuolo e l'Atalanta l'Atalanta sicuro, il Sassuolo mi pare la prima giornata che ha vinto 2 a 1 quindi sì assolutamente anche il Sassuolo credo che un gol il Lecce possa farlo anche perché comunque qualche idea di gioco avevamo vista anche contro l'Inter era stata sfortunata a non trovare il gol non che dovesse ambire chissà che risultato però comunque un gol poteva trovarlo e secondo me può trovarlo contro il Torino il Torino che comunque vincerà quindi 1 più gol quotata a 3,40 così vi dovrebbe venire anche bella bella alta cioè ve lo dico proprio sinceramente detto questo ragazzi il video è finito più tardi uscirà il video sui consigli per i fantacalcio quindi io vi invito a mettere un piaccio se volete questa serie continui per tutta la stagione vi invito a scrivermi un po' nei commenti le vostre quote, quelle che secondo voi volete giocare se secondo voi sono fattime di queste che vi ho detto ditemelo nei commenti e vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video attualità calcivistica, fantacalcio qualsiasi cosa che accada nel mondo del calcio tutto questo vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video